Siamo ancora lontani anni luce dalla mia idea di attacco alla profondità di situazioni di gioco in fase offensiva. Il pareggio contro la Virtus Francavilla allo Zaccheria ha permesso di muovere la classifica dopo il K-O di Teramo, ma per mister Marco Marchionni servono ulteriori step di crescita. Lo ha detto a chiare lettere l'allenatore del Foggia, commentando il secondo pareggio stagionale, maturato nel finale con rete di Castorani, dopo il vantaggio rosso-nero con Rocca. I punti in classifica sono 14, frutto di 4 vittorie, 2 pareggie, 5 K-O, la parola d'ordine è continuità, mentre la stanchezza per la serie di impegni da affrontare ogni tre giorni, assicura l'allenatore, non può essere una scusante. La stanchezza può essere un alibi, perché il giocatore poi quando gioca le energie le trova. Le soluzioni quali sono? Sono di continuare a lavorare, di lavorare molto di più, ma soprattutto di crederci, crederci che quei concetti che abbiamo ci possono aiutare anche nei momenti difficili a trovare la via del gol. Secondo me li stiamo proponendo poco e una squadra come la nostra deve giocare soltanto nei concetti che conosci. La rete di Rocca nel derby ha dimostrato che vie alternative per arrivare alla porta avversaria rispetto ad Alessio Curcio, capocannoniere con sei centri, sono presenti in organico. La prossima tappa sul calendario ora, mercoledì alle 15, Vibo Valencia per affrontare la Vibonese nel recupero della non aggiornata, match rinviato tre settimane fa per i casi Covid nell'organico calabrese. Di fronte ci sarà una squadra arrabbiata per il K.O. di Monopoli e che ha messo insieme sin qui 12 punti in nove gare. Sia il direttore tecnico Corda che Marchionni mettono in guardia il Foggia. Un avversario difficile, che è tante partite da recuperare per il problema del Covid, un avversario che sarà sicuramente arrabbiato per la sconfitta di ieri a Monopoli. Sicuramente non lo incontriamo nel miglior momento che potevamo incontrare. Io preferisco sempre incontrare le squadre che sono vedute da vittoria e che non dà sconfitte. Bisogna che ci svegliamo, che troviamo soluzioni per far sì che comunque il Foggia porta a casa questi risultati, perché non possiamo permetterci un rilassamento.